Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di sacco a pelo e materassino di casa C2 Summit, nel particolare ho qua il materassino Comfort Light Insulated e il sacco a pelo Ascent 2. Adesso insieme vi vediamo le caratteristiche e naturalmente anche i pregi di effetti. Iniziamo da questo sacco a pelo, come vi dicevo modello Ascent 2, esiste anche la versione Ascent 1 e Ascent 3, la differenza è nella temperatura di comfort. Nel particolare questo Ascent 2 ha una temperatura di comfort di meno 4 gradi, limite di meno 10 ed estrema di meno 30. Questo ci fa subito dire che diciamo è un sacco a pelo abbastanza 3 stagioni, al quale però non dispiacciono anche le temperature invernali. Come vedete è un sacco a pelo in piuma, infatti vedete com'è bello morbido quando lo schiaccio. Ha una piuma molto particolare perché è una piuma ultra dry, una piuma che resta sempre asciutta, anche grazie alla parte esterna realizzata con nylon 20D. E devo dire che è una piuma che tiene veramente veramente caldo. Io vi assicuro l'ho utilizzata alla temperatura comfort, comfort, di meno 4 e dentro ho avuto estremamente caldo. Secondo me diciamo che la temperatura comfort è veramente quasi più la meno 10 che indicano rispetto che la temperatura limite. Per quanto riguarda poi l'utilizzabilità ha un sacco di feature estremamente interessanti. Innanzitutto ha tre cerniere, una nella parte di destra che corre fino a metà diciamo del sacco a pelo, una nella parte di sinistra che corre quasi fino in fondo ai piedi e soprattutto in fondo ai piedi abbiamo un'ulteriore cerniera che ci permette di aprire proprio la parte finale del piede in modo tale da andare a liberare aria e avere i piedi al fresco. E inoltre queste cerniere sono anche realizzate da IKK che ne garantisce innanzitutto un'ottima cerniera per quanto riguarda la durabilità nel tempo ma soprattutto anche ne evita la dispersione di calore. La cosa più interessante di tutto ciò è che noi possiamo completamente aprire questo sacco a pelo e utilizzarlo anche come quilt. Quindi volendo a meno 10 se abbiamo freddo lo possiamo utilizzare come sacco a pelo normale. A 0 gradi se abbiamo caldo lo possiamo utilizzare come quilt, come coperta. Quindi veramente tantissime funzionalità. Questo sacco a pelo poi ha tutta la struttura realizzata con delle camere in modo tale che la piuma non si vada a disperdere e non si abbiano dei punti freddi mentre dormiamo la notte. Questo l'ho trovato veramente efficace perché comunque girandosi e rigirandosi di notte devo dire che non va a disperdersi la piuma in particolare i angoli del sacco a pelo. Vi dicevo girandosi e rigirandosi perché questo sacco a pelo è a mommia ma è una mommia abbastanza larga. Per intenderci abbiamo comunque un sacco di spazio sia nella parte delle spalle sia nella parte dei piedi. Veramente ci possiamo girare all'interno senza nessun problema. Non è proprio una mommia ristricata come possono essere altri sacco a pelo. Io questo l'ho veramente apprezzato. Non essendo però una mommia ristricata naturalmente c'è da tenere conto anche del peso. perché vuol dire anche più materiale. Nel particolare questo mio Ascent 2 io ho la versione long. Esiste la versione regola e la versione long in base a vostra altezza. Pesa un chilo e cento. La versione regola dovrà pesare un centinaio di grammi in meno. Devo dire comunque secondo me pensando di avere un sacco a pelo da meno dieci gradi anche qualcosa meno. Secondo me un chilo e cento ci può stare come peso. E per quanto riguarda anche la dispersione di calori vicino alle cerniere abbiamo anche tutta una parte ricoperta con una parte in più proprio di andare a coprire la cerniera per evitare che esca il calore. Per quanto riguarda invece la parte superiore diciamo del collare che va attorno alla nostra testa vabbè innanzitutto abbiamo tutte le parti che vanno a chiudere le possibilità che ci siano spifferi. Abbiamo la possibilità di stringerlo per andare a avvicinarlo alla nostra testa e devo dire che anche lui svolge veramente un ottimo lavoro. Io ci ho dormito anche con all'interno un cuscino e devo dire non ho avuto nessun problema. Inoltre all'interno di questo sacco a pelo è presente anche una taschina dove andare a riporre un oggetto che vogliamo vedere vicino ad esempio un telefono per evitare che si raffreddano le batterie eccetera. Passiamo ora invece al materassino Comfort Light Insulated. Innanzitutto esistono due tagli Regular e Long in base alla vostra altezza io ho la versione Regular che arriva fino a 1,90m e nel particolare questi Insulated sono con RT di 3.7 quindi ci permette di utilizzarlo tranquillamente fino a 0 gradi all'incirca. Per quanto riguarda la parte di gonfiaggio è molto semplice perché la sacca con cui viene venduto ci garantisce anche di poterlo gonfiare in neanche un minuto quindi il gonfiaggio è veramente molto semplice. Questo è permesso anche da una valvola realizzata da Situ Summit che ci permette di poterlo gonfiare e sgonfiare veramente molto facilmente soprattutto una valvola stagna che non abbiamo problemi che si vada ad aprire mentre dormiamo su questo materassino. Il materassino in sé poi è alto 6.3cm quindi comunque ci dà una certa altezza rispetto al suolo è realizzato principalmente in due materiali dei nylon 30 e 40D in base alle zone e soprattutto è realizzato in modo diverso in base alla zona pettorale dove diciamo va a cadere il peso della nostra schiena la nostra pancia e come dormiamo e la seconda zona invece è quella dei piedi dove il peso va naturalmente a ricadere in modo diverso rispetto alla parte superiore. Nel particolare la parte superiore è realizzata con una tramatura più fitta in modo tale che ci dia più sostegno su tutta la zona della schiena per permetterci di dormire meglio. Invece la parte inferiore è realizzata con una struttura un pochino meno presente ma ha più parti di imbottitura perché è nella parte inferiore dove generalmente si ha anche più freddo quindi due zone completamente realizzate in modo diverso. All'interno del materassino poi troviamo anche una parte di risvestimento isolante in una laminatura fatta veramente molto bene che come dicevamo gli garantisce l'RT di 3.7. Per quanto riguarda la forma ha una forma diciamo a mummia nel senso che comunque si va a ristringere nella parte dei piedi ma non è nemmeno così tanto ristricata c'è comunque abbastanza spazio ci si dorme sopra molto bene e si riesce anche a girarsi senza cadere giù dal materassino. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo sacco a pelo e materassino Situ Summit. Iniziamo dai prezzi il sacco a pelo viene venduto a 450 euro sul sito Situ Summit online si trova a 350 il materassino se non ricordo male siamo sui 200 sito Situ Summit online non si trova tranquillamente a 150 euro. Per quanto riguarda il sacco a pelo secondo me a 350 euro li vale li vale perché comunque abbiamo un'ottima piuma abbiamo la possibilità di utilizzarlo anche come quilt quindi volendo veramente se dobbiamo andare a fare un trekking in cui sappiamo che troveremo freddo ma non sappiamo se il freddo sarà da 0 o meno 10 gradi questo sacco a pelo può veramente aiutarci tanto con tutte le sue funzioni e vi assicuro anche da punto di essere materiali è realizzato veramente molto molto bene. Per quanto riguarda invece il materassino anche lui è realizzato molto bene 150 euro secondo me li vale poi tranquillamente lo si può trasportare perché comunque ha un peso abbastanza risorio e naturalmente le dimensioni sono anche piccole che dire secondo me la combo dei due è veramente ottima si può utilizzare tranquillamente anche in trekking particolarmente autunnali più anche invernali diciamo quando tendono a operature tendono a scendere sotto lo 0 senza tanti problemi e detto ciò ragazzi io nella speranza sia stato esauramente esotivo anche per questa recensione vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao